E' tutto questo proprio bello. Per favore, non c'è bisogno di farlo. 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 Per favore, non c'è bisogno di farlo. Per favore, non c'è bisogno di farlo. 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 Per favore, non c'è bisogno di farlo. Grazie per la visione! 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 Perfetti! Grazie a tutti. 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 Come with me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come... 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 ... 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 Che petro! You are going to shut your mouth and give me what I want. The pre-da-vinci paintings. One is on the boat. The other two were sold to a cardinal. He is displaying them for high-ranking members of the church. How do I get in? How should I know? Go ask your whore of a cistern. I am sure she has slept with a couple of cardinals. Where is Marko? He was to come here after examining another da vinci painting near the Vaticano. Imagine, once we open the temple, the true renaissance will be upon us, and the teachings of Hermes will be known to all men. Patience, brothers. Soon we will reveal the secrets of this painting. We areaks, girls. Let's go. You are as tall. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Questa è la sua volta. Ecio, ha anche experimentato con inks, anche un inks che vannissi. Ma non possiamo vedere in visibile inks. Possiamo? Ecio, usi il tuo gift! Do you know di questo? Qui ci sono, e io e do. Questa è un'ottima cosa. Questa è un'ottima cosa. Qui si tratta del nostro canale. Ci sono retta. Pagliari. Per un'ottima cosa. Questa è un'ottima cosa. Questa è un'ottima cosa. Questa è un'ottima cosa. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Leonardo. Guardo, venite. Guardo, venite. I know this architecture. Non ci sono dei simboli Pythagorei. 43, 39, 19, N, 75, 27, 42, W. Non è nulla. Il culto di Hermes è vero. Il numero è significato. Il numero è vero. Il numero è vero. Noi numeri può riparare il mondo. Come, mio amore. Help me charter a ship to Navarra. I devo finire con Cesare Borgia. È non intendo per noi. Ezio, cosa stai non dicendo? Cosa cosa stai lavorando? Beh, ho studiato alcuni dissectioni. Il King Louis XII sembra interessato in hiring me come un'ingineera. Oh, sì. Ho pensato di riparare il St. John lost in la Villa Fire. Salai potrebbe modellare forlo, ovviamente. Poi, potrei studiare un uomo con un bambino per vedere come le poti cambiate. Cosa. 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 Ma ora, sta v 파iće la outra gente a vivitare come iаковamo. Grazie. 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 Grazie.